Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Starà naturalmente ancora cercando di riprendersi dal duro colpo che ha dovuto incassare da Mediaset, l'azienda che per decenni ha rappresentato, non solo un luogo di realizzazione personale, ma anche una sorta di famiglia Barbara D'Urso adesso sarebbe corteggiata da Rai 1, Pier Silvio Berlusconi che pensa? Per anni e anni si è scontrata ogni domenica con Mara Benier, insieme hanno rappresentato le domenica italiane, una con domenica e nell'altra con domenica live Le indiscrezioni sulle loro ipotetiche faide non sono mai mancate, ma loro si sono sempre parlate bene, a vicenda Cosa volerai uno da Barbara D'Urso.Barbara D'Urso, ecco dove la vedremo dopo l'uscita da Mediaset Molto addolorata per non aver ricevuto spiegazioni sulla non riconferma di pomeriggio 5 dopo 15 anni di successi, la carriera di Carmelita non finisce certo qui Niente la 7 come si narrava, ci sarebbe la Rai dietro a un corteggiamento Barbara D'Urso non resterà senza televisione, sarebbe corteggiata da Rai 1 come ospite di domenica in Riceverà il via libera se ciò dovesse trasformarsi in news? Un colpo al cuore per Canale 5 vederla da Mara Benier, sua ex competitor ogni domenica, si apprende su il tempo Tra le due signore della televisione c'è un grande rapporto di stima e d'amicizia Intanto, la rottura con Mediaset ha fatto cambiare tutti i piani alla D'Urso, che aveva già registrato il promo per la nuova stagione di pomeriggio 5, si legge inoltre sulla testata Sicuramente l'inaspettato, per tutti quanti lei compresa, addio di Barbara Mediaset ha rappresentato un violento terremoto, nell'azienda come interiore per lei Tutte le sue certezze sono crollate in un attimo. Pier Silvio Berlusconi concederà questo via libera dopo quello che le ha fatto vivere? Col cavolo, ma quando mai, impossibile, i fan Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video